mia 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 ma questa è una pallina da golf e questo è un guantone da baseball io qui con questi sport non ci capisco niente ma oggi parleremo della differenza che passa tra l'essere simpatici e l'essere ridicoli rimanete lì ci vediamo dopo la sigla ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale vi invito a lasciare un mi piace al video per il mio look soprattutto se non mi piace ok su suggestione di un'amica su facebook oggi per quanto riguarda la rubrica italiana all'estero mi piacerebbe parlare di cosa ci manca cosa abbiamo in più noi italiani e l'italia stessa rispetto agli altri paesi mi piacerebbe però in questo video parlare di cose non ovvie e cose che io ho riscontrato qui una volta venuto a vivere in canada perché chiaramente potremmo fare un video dove potremmo dire e noi abbiamo il colosseo noi abbiamo questo monumento ne abbiamo questa città ma queste sono ovvietà che sono sotto gli occhi di tutti e che noi conosciamo mi piacerebbe più parlare di aspetti che delle volte passano più inosservati ma non per questo meno importanti ok quindi prima di cominciare ringraziamo l'amica per il suggerimento su questo video ed andiamo avanti ok mi piacerebbe partire con un aspetto molto importante la numerosa presenza di piazze nelle nostre città e paesi piazze come luoghi di aggregazione luoghi per andare e passeggiare conoscere nuove persone fare nuove amicizie e può parlare con gli amici qui ci sono meno piazze e non vengono vissute nella stessa maniera con cui noi le viviamo in italia per cui questo è un qualcosa che a me manca molto diciamo questo aspetto questo dire io vado in piazza qui non esiste come concetto ok collegato al concetto quindi di piazza come luogo di aggregazione potrei citare una nostra predisposizione facilità nel iniziare nuovi rapporti di amicizia o semplicemente parlare con le persone che non conosciamo questa è una caratteristica di tutti i popoli latini ho riscontrato quindi diciamo i popoli sudamericani e i popoli europei come francia spagna portogallo questa facilità di comunicazione con le persone che non conosciamo e facilità poi di stringere nuove amicizie qui manca un po questo aspetto c'è sempre una certa diffidenza verso l'estraneo io vivo in un palazzo di 24 piani ed è un palazzo non un grattacielo qui grattacieli sono di 70 80 piani spesso dico io vivo un palazzo di 24 piani la gente mi dice o in un grattacielo no no questo è un piccolo palazzo e quindi io vivo in questo palazzo provvisto di piscina provvisto di palestra dove vado regolarmente sono tre o quattro anni che frequento la palestra e mi capita di incontrare le stesse persone ma sapete cosa solo con alcuni di loro ho stretto una relazione più che altro di cortesia e di circostanza quindi non so nemmeno i loro nomi un ciao o come stai eccetera per il resto tutte le altre persone che incontro non ci salutiamo nemmeno e non dipende da me io ho provato magari ad approcciarli ma non c'è proprio c'è questa diffidenza questa freddezza verso l'estraneo ok e questa è una cosa che noi popoli latini noi italiani abbiamo molto e che a me piace come aspetto che ci caratterizza un altro aspetto molto importante e positivo che abbiamo in italia è il clima noi abbiamo un clima miti io credevo di aver vissuto in un paese freddo quando vivevo in italia fin quando sono arrivato qui ho conoscito una nuova entità di freddo un freddo che 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 percepisci per tutto l'inverno e che delle volte si protrae per due tre settimane sotto lo zero di 10 gradi 20 gradi indipendentemente dall'avvicendarsi del giorno e della notte è una cosa allucinante ragazzi e un'altra positività che 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 ci dà questo buon clima in italia è l'avvicendarsi delle stagioni nonostante noi diciamo le stagioni le mezze stagioni non esistono più voi non avete visto qui qui non esistono veramente qui si passa dalla maglietta corta alla al giacchetto perché nevica con il cappello in un lasso di tempo di dieci giorni e sia per quanto riguarda l'autunno che per la primavera io non ho mai visto un paese senza mezze stagioni come questo qui in canada tuttavia una delle bellezze più grande che abbiamo è la diversità la diversità che c'è tra regione e regione paese e paese in italia è una ricchezza che pochi altri paesi possono vantare e che mi rende veramente orgoglioso di essere italiano qui in canada non ho notato la stessa differenza ad esempio si va da lontario al che berg si parla una differente lingua ma ci si ferma lì e poco altro chiaramente il che baica un po più influenzato dalla cultura europea francese però diciamo che non c'è la stessa differenza non è così profonda come nella nostra penisola ok adesso vediamo alcuni aspetti in cui potremo migliorare prima vi invito ancora a lasciare un like al video utile per il canale ok dunque per quanto riguarda le negatività e le cose in cui potremo migliorare noi abbiamo qualcosa che non ho notato qui ed è delegare sempre la responsabilità in italia c'è uno scarico al barile lo vediamo tutti i giorni in politica succede qualcosa c'è uno scarico al barile e non si riesce mai a capire chi è stato a fare cosa c'è sempre questo questo diciamo delegare la responsabilità a qualcun altro che questa è una cosa in cui potremmo far meglio un'altra cosa che ho notato e qui non c'è è la presenza nei discorsi in italia di politica noi siamo un popolo che parla di politica molto e qui ad esempio non è corretto parlare di politica tra amici o in un ristorante o in un luogo pubblico è un discorso che non si prende perché sanno che ci sono diverse opinioni e per non entrare in contrasto loro evitano di parlarne noi invece la vita politica impregna le nostre relazioni personali e la sentiamo ovunque c'è sempre questo dualismo e diciamo questa è una cosa che non mi manca non sto qui a dire che è un bene un male io non dico questo dico è una cosa che non mi manca e che noi abbiamo e sicuramente qui non hanno nella stessa maniera un altro aspetto in cui potremmo migliorare il rispetto verso le cose pubbliche in italia qui ho notato ad esempio che i bagni l'ottanta per cento delle volte che sia un ristorante che sia un qualsiasi altro posto pubblico sono sempre puliti estremamente puliti anche nei centri commerciali da noi delle volte è difficile trovare un bagno in decenti condizioni e anche ad esempio ci sono molti cani qui la gente ama i cani a toronto e ogni qual volta vanno fuori hanno un sacchetto dove raccogliono le feci del cane da noi delle volte questa cosa viene un po a mancare diciamo e quindi credo che potremmo far meglio mi rendo conto ragazzi che questo è un discorso molto articolato e che tutto ciò che abbiamo detto ha una valenza in italia perché dipende sempre dal posto in cui si ascolta questo video perché se sia in nord italia o se sia al centro piuttosto che al sud e ciò che ho detto una valenza differente perché appunto sia un paese che cambia molto quando ci si sposta da nord a sud ok il mio avviamento oggi tende a riassumere questo video ea illustrarvi alcune differenze quindi vedete qui calcio baseball golf queste sono delle altre differenze palesi che ci sono tra il canada e l'italia in questo caso spero vi sia piaciuto questo video vi invito a sottoscrivervi al canale ea lasciare un mi piace ci vediamo prossimamente con un altro video la prossima settimana vi auguro una buona domenica a tutti e buon inizio settimana ciao ciao